Prego. La società scientifica che rappresenta la maggior parte degli operatori di sanità pubblica in Italia, la società italiana di igiene, ha ritenuto di organizzare un evento che guardi avanti, che sfrutti al meglio le tecnologie disponibili per le attività di sanità pubblica e quindi soprattutto per le attività di comunicazione e di prevenzione. C'è stata una risposta importante e soprattutto dei più giovani, ce l'aspettavamo, che permetterà di affinare le tecniche e poterle adattare alle singole situazioni, le diverse campagne informative piuttosto che ai diversi ambiti che possono essere quelle delle direzioni sanitarie degli ospedali o quelli dei servizi di igiene e di sanità pubblica del Servizio Sanitario Nazionale.